aveva una voce come venivo il libro stava accanto a letto lui mi ha detto aspetta ti leggo una cosa ha preso il libro aspetta così lo posso leggere ero mezzo sdraiato su di lui mi ha girato sulla schiena mi ha appoggiato il libro sul tetto poi si è tirato su per baciarmi mi ha detto buonanotte si è rimesso giù ha cercato una pagina poi si è tirato su per darmi un altro bacio mi ha detto amore mio si è rimesso giù e ha cominciato a leggere io non lo so di cosa parlava il libro ma è stata l'unica volta in vita mia che mi sono attormentato sulla schiena grazie a tutti grazie a tutti